Il top price della due giorni di aste a novembre è stato un anello in oro bianco, zaffiro e diamanti di Bulgari, 190.000 euro, e di cui non possiamo diffondere l'immagine per questioni di riservatezza. Le due aste di gioielli e herta antica di Waneness in piazza Campetto a Genova hanno suscitato molto interesse. Liguria Business Journal è andato ad assistere a queste vendite che attirano compratori da tutto il mondo. Il numero 448 alle varie della verità, il coro è supera, base d'asta per questo 12, 13, 14, 14.015 a 15.000 euro, 15, 16, 17, 19, 20, A 22, 24 il prossimo, 24, 26, 26, 28 il prossimo, 28, 30, 32 il prossimo, 30, 32 il prossimo, 30, 32. 32, per 48, 41, 42 se vuole, 42. 42, 42, 42. 42, 42, no, 42, no. a 42 mila euro 40 2 mila 42 mila 42 mila siamo a 16 mila 17 mila 20 22 il prossimo il prossimo 22 22 il prossimo 24 22 il prossimo il prossimo 22 oh allora spezziamo siamo in una mezza qua